Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio vlog non so se si sentono ma in sottofondo ci sono un po' di martellate hanno appena iniziato a fare i lavori al piano di sopra è la mia futura casa e niente se sentite qualche colpo di martello è tutto normale comunque oggi parliamo di registrazione della batteria dopo i vlog che ho fatto nelle scorse settimane mi avete fatto un sacco di domande in special modo sui preamplificatori di darvi qualche consiglio sui preamplificatori allora, ognuno ha il suo approccio il personale approccio per la registrazione della batteria penso che posso dividere in due macro categorie i puristi, quelli che prediligono un suono super clean super dettagliato, super fedele e quelli come me che prediligono un suono molto colorato quindi appunto molto personalizzato io vi posso riportare le mie preferenze tenendo presente che comunque bisogna prendere in considerazione che quelli che vi andrò a dire sono dei pre molto molto colorati ma servono appunto al mio personalissimo approccio d'altro canto ci sono anche pre magari non colorati super lineali, super dettagliati ma che comunque... a parte sugli overhead utilizzo una coppia di quei pre però per il resto è tutta roba colorata allora, partiamo dal kick kick-in e kick-out sul kick-in e kick-out mi piace tantissimo utilizzare i Niv 1073 dei pre che specialmente su low-end sono veramente molto 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 belli e molto estesi anche questo pre ha la possibilità di settare sia l'input che l'output e questo mi dà appunto modo di far saturare lo stadio d'ingresso e quindi di avere già una sorta di compressione ok? sfruttando appunto tutta l'endroom del pre già in registrazione quindi sul kick-in e il kick-out mi piace utilizzare i 1073 idem sullo snare uguale mi piacciono snare belli grassi, ciccioni e anche snare up, snare down 1073, 1073 della Niv ovviamente sul kick-in e il kick-out utilizzo lo stesso pre e anche sullo snare up e snare down lo stesso pre per avere una sorta di coerenza anche di fase che è molto importante passiamo ai tom sui tom amo tantissimo utilizzare i pre del banco che vedi alle mie spalle dell'SSL perché hanno un punch veramente notevole quando fatti saturare come notate io sui close mic tendo a farli saturare sempre perché ovviamente non tanto è una saturazione soft giusto per limare i picchi e colorare il suono come lo faccio? lo faccio appunto aumentando l'input e matchando l'output lo si può fare anche sullo SSL però portando il pre ok a questa sorta di esasperazione il pre inizia a suonare inizia a dare il suo colore e la sua peculiarità in questo caso SSL è molto punching mi piace tanto sui tom e sul timbano overhead sono gli unici in cui utilizzo dei pre che sono molto trasparenti appunto perché sulla parte alta dello spettro non mi piace tanto colorare non mi piace tantissimo colorare e una coppia di pre veramente notevole che fa questo in modo veramente notevole sono i pre della TecnoSign una ditta italiana e questi pre sono veramente super super flat molto estesi e quindi tendono a prendere il kit diciamo in tutta la sua estensione sullo spettro ma colorano pochi sono molto trasparenti e questo sui overhead mi piace veramente tanto perché non amo saturarli tantissimo room sulle room gli do veramente mazzate esagerate di colore anzi le saturo e le comprimo e utilizzo shadow wheels in monogama che sono dei pre bellissimi che addirittura si può scegliere fra due tipi di trasformatori questi qua se spinti a dovere danno un colore veramente unico close mic overhead close mic ride idem e pre della TecnoSign che sono veramente molto dettagliati diciamo che su un kit base i pre che mi piace utilizzare sono questi e provateci e vedrete che avrete un kit con molto carattere molto colore e già ben suonante appena dopo la registrazione vi ricordo ragazzi che in questo periodo su Improview Mix c'è l'abbonamento annuale scontato vi consiglio di dare un occhio perché è un'ottima occasione potete vedere tutti i video già che ci sono e tutti quelli che usciranno per un anno a un prezzo super scontato da dare un occhio e ciao buon mix a tutti grazie